Buongiorno a tutti, benvenuti allo stand di Senec per Key Energy 2024. Quest'anno presentiamo un nuovo concetto che è Senec Next, la proposta per la trasformazione energetica e anche la trasformazione aziendale di Senec. Il concetto racchiude tutta una serie di nuovi prodotti e servizi che partono chiaramente dal lancio del nuovo prodotto, il Senec Home E4, che ha la caratteristica di essere un sistema d'accumulo per installazioni da esterno, quindi questa è la grande differenza. Nasce di base, impilabile fino a 15 kWh, è un IP65, quindi questo ci consente tipologie di installazione che fino ad oggi non potevamo effettuare con il prodotto V3. L'altra novità è l'introduzione del Senec Cockpit, che è una piattaforma dove gli installatori hanno la possibilità di trovare tutta una serie di risorse, servizi, tra cui il monitoraggio degli impianti installati, i ticket aperti e tutto quello che ha a che fare con la propria flotta di sistemi in gestione, che integra chiaramente tutto l'ecosistema Senec, dallo shop ai manuali all'assistenza dedicata, tutto all'interno di un unico portale dove appunto sarà possibile interagire in maniera molto più efficiente ed efficace con il mondo Senec, sia lato clienti che chiaramente lato produttori. Tanti altri prodotti, chiaramente tanto Sienai, le comunità energetiche, Senec è presente sul mercato anche con tutto il progetto delle comunità energetiche e dei PPA industriali, quindi insomma il concetto di 360 gradi va ad essere sempre più tondo rispetto agli anni passati con il focus di diventare sempre l'azienda di riferimento e di rimanere leader di mercato da questo punto di vista è il principale riferimento per tutti i nostri partner e i nostri clienti.